Buon sinistra! Buon sinistra! Viva via il ginocchio! Calcate! Avete un ultimo desiderio? Potrei fare una telefonata. Pronto Mario! Come stai? Io bene, bene. Sono con degli amici. Sì, sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo. Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e s'ammala. No, Domenica non vengo. Per fare 30 km ci vogliono 3 ore. Dai, parliamone per telefono, che conviene. Scusi, ma si potrebbe avere una sedia. Grazie. Allora, vai al mare quest'estate? Beato a te. No, io non ci riuscirò. Teresa ha i parenti in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso 3 kg. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco. Ah, è lì? Passamelo allora. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai? Una telefonata allunga la vita.